Allora, ora vi spiego come si allacciano le scarpe in pochissimo tempo. Allora, prendiamo una scarpa, cosa sia sia scarpa, basta che abbia le stringhe. Fate il primo nodino classico con il passaggio sotto, poi prendete i nignoli, li mettete così, uno da una parte e stringete forte e uno dall'altra. Poi mettete le mani a pistola, le fate passare una sotto in questo modo e una sotto nell'altro verso, e rimarrete così. Fate passare il pollice sopra e afferrate le due estremità, e pam! Nodo! Quanto siamo qui? Ve lo faccio rivedere un'ultima volta. Snodatevi. Ho lasciato il nodo, quello uno sotto, uno sopra, anzi no, ve lo faccio rivedere. Qua c'è il nodo, stringiamo, mignoli, opla là, mani a pistola, una passa in questo modo e una passa nell'altro modo, pollice sopra e poi tirate, nodo, papam!